Di aprire la mente, di confrontarsi il più possibile, di avere coraggio nel voler far imparare i ragazzi a giocare, quindi di guardare il risultato sì come una forma comunque di crescita, ma soprattutto il gioco e far imparare i ragazzi a saper scegliere in campo. Quindi l'obiettivo principale nel settore giovanile è quello di formare i ragazzi, questo non ce lo dobbiamo mai scordare. Un saluto a tutti quanti, grazie di nuovo, a presto.